Belen, Stefano e Santiago e Luna stanno festeggiando il Natale alla nuova casa di Stefano De Martino a Napoli. Non sobe , trovare unaoidalità. どun мозir, la cosa passa è la nuova con iztrici, per fare della faccia. luna è veramente elegantissima il posto è incantevole certo apposillipo il mare è stupendo buon natale anche a te belen buon natale a tutti